Io mi sono fatto l'idea che penso che il sindaco se ne dovrebbe andare via, prima se ne va e meglio gli italiani si sentano, non lascia nulla di sé, è un uomo che ha lasciato solo amarezza e che quindi non ricorda nulla. Basta pensare che non è stato capace di dare ad un consigliere comunale come Napoli, che ha avuto la gioia di dare ad Almirante un milione di voti e lui non se li sognerà mai, negargli la sala dove dovevamo parlare. Se ne vada trovate uno degli uomini migliori, che ce ne sono tanti. Che suggerisce qualcuno? No, per la verità per il momento non voglio offendere nessuno, siete tutti molto bravi. Se non avete nessuno vengo a farvi la sindaco io. Mi propongo come sindaco di Napoli, ho l'impressione che qualche cosa più dell'attuale la farò.